2012, stand dell'agenzia Toninelli, siamo con un veterano del settore, Paolo Toninelli, leader indiscusso del settore assicurazioni, camper e caravan in Italia. Allora Paolo, come lo vedi questo 2012? Ma il 2012 speriamo, perché per ora siamo agli inizi, speriamo un periodo migliore. Certo, non possiamo nasconderci che il periodo è un po' duro, ma grazie a Dio noi riusciamo, perlomeno siamo riusciti a tenere finora e conseguentemente speriamo anche nei prossimi anni. Sì, anche perché voglio dire di crisi, di momenti belli, brutti, la Toninelli assicurazioni ne ha passati nel settore. Purtroppo per me sì, perché come tu hai detto sono un veterano e sei veterano a qualche anno in più che della media, per quanto agli alti e bassi ci sono sempre stati, l'abbiamo sempre superato e perché non superare anche questo? Basta tenere duro e non mollare il colpo. Certo, certo. Ma guarda, Carrara è una fiera che nel suo piccolo, per quello che mi riguarda, ha sempre reso molto, molto proporzionato appunto agli spazi e all'importanza della fiera. I clienti li ho sempre trovati molto interessati. Ti ringrazio. Ci mancherebbe, grazie a te. Grazie.